Ai microfoni di Radiofonica le dottoresse Paola Bianchini e Laura Dallaragione che sono qui a Palazzonini per presentare il libro come un quadro di Magritte. Stiamo parlando di disturbi del comportamento e dell'alimentazione e la prima domanda che volevo fare alla dottoressa Dallaragione era quantitativamente come può essere inquadrato questo fenomeno dei disturbi alimentari a livello nazionale ma anche Umbro? Ma è un fenomeno in grandissima crescita diciamo che c'è stata un'esplosione negli ultimi dieci anni e oggi noi parliamo di una vera e propria epidemia sociale. In Italia ci sono circa 3 milioni di persone ammalate con 300 mila casi ogni anno, nuovi casi. In Umbria purtroppo il fenomeno è anch'esso molto diffuso e parliamo di circa 15 mila persone ammalate quindi con varie tipologie di disturbo, ovviamente non tutta anoressia, anche bulimia e anche disturbo di alimentazione incontrollata. Si è allargata molto la fascia di età per cui noi abbiamo bambine di 11 anni ma anche persone adulte che si ammalano per la prima volta e anche i maschi che prima erano esenti da questo disturbo. Quindi è un disturbo che ormai attraversa varie età della vita, tutti i generi, tutte le classi sociali e culturali. Insomma un disturbo cosiddetto globalizzato. Ecco, da questo punto di vista come si può riuscire a captare il fenomeno? Cioè è difficile anche perché molto spesso le stesse persone che ne soffrono lo nascondono alle persone che hanno vicine. Quindi come è facile, dottoressa Bianchi, in che modo si riescono a intercettare questo tipo di disturbi? Noi facciamo anche molta prevenzione nelle scuole. Le scuole, come ripetiamo sempre, sono tra i primi, i docenti, quindi gli insegnanti, sia potersi accorgere e intercettare questo tipo di disagio. Perché è un disagio che si esprime sul corpo, si esprime su questa volontà così coercitiva a non mangiare, a mettere sotto controllo il proprio peso. Però di fatto i segnali sono dei segnali di forte ritiro sociale, di cambiamento repentino del tono e dell'umore. Quindi i primi ad intercettarlo possono essere sicuramente i familiari, ma anche i docenti. Per questo c'è bisogno di una campagna di sensibilizzazione in questo senso. Poi rimangono altre agenzie, è importante le agenzie del mondo dello sport. Per esempio molte persone si ammalano facendo molta attività fisica, e quindi le scuole di danza, la piscina, il fitness, il mondo quindi dello sport. E' importante anche la sensibilizzazione dei medici di base, dei pediatri, perché come diceva la dottoressa Dallaragione, questa età si sta pericolosamente molto abbassando. Una cosa su cui mi veniva da riflettere è il fatto che nel mondo universitario forse questo tipo di fenomeno è ancora più difficile da comprendere, perché molto spesso i ragazzi vanno a studiare fuori regione, quindi le famiglie sono distanti, magari gli amici dell'infanzia non ci sono più, quindi si è in un contesto totalmente nuovo, in cui si trovano a dover affrontare lo stress della vita universitaria, a dover primeggiare, perché comunque parliamo di persone che cercano, vogliono avere una media abbastanza alta, quindi comunque si autoinducono anche uno stress notevole. Questo fenomeno a livello universitario, secondo lei, come può essere intercettato? Chiaramente a livello universitario c'è meno attenzione, il rapporto tra docente e studente è completamente differente rispetto all'ordine di studi secondario. Molto spesso i docenti si trovano a vedere lo studente la prima volta quando fanno l'esame. Ciò nonostante, ascoltando le storie di tanti pazienti, i maestri sono importanti nella vita, e quindi lo sguardo di una persona può fare la differenza. Ascoltando appunto, le dicevo, le storie di tante ragazze, alcune di queste, dando proprio l'esame, si sono aperte e hanno messo in evidenza anche questo dolore. Ecco, la Regione Umbria è una tra le cinque italiane che si è dotata di un centro vero e proprio che dà sostegno da più punti di vista alle persone che soffrono di questo tipo di patologia. Ci vuole parlare? Sì, la Regione Umbria è la regione sicuramente più attrezzata, non soltanto con un centro, ma con una rete di servizi, perché il centro Palazzo Francisci, che quest'anno festeggia i 10 anni, è sorto nel 2003 ed è dedicato alle anoressie, alle bulimie dell'età evolutiva. Poi nel 2008 è sorto Città della Pieve per l'obesità e il disturbo di alimentazione incontrollato e lo scorso anno è stata ampliata l'offerta Todi con un centro diurno che si chiama il Nido delle Rondini. Quindi l'offerta è molto variegata, noi abbiamo persone da tutta l'Umbria, ma anche da tutta Italia, siamo centro di riferimento nazionale e sicuramente l'Umbria in questo momento è la regione che è un po' un modello per tutte le altre regioni. Noi stiamo facendo centri in tutta Italia sul nostro modello e addirittura faremo un centro a Malta che è stato ispirato a Palazzo Francisci. Ringraziamo le dottoresse Dallaragione e Bianchini per il tempo che ci hanno voluto concedere. Per Radiofonica.com è tutto.